Abbiamo già visto, con questo foglio, come Excel si possa utilizzare anche per raccogliere una serie di dati Ora, abbiamo visto anche come questi dati possono essere ordinati, secondo vari criteri Vediamo altri strumenti, uno strumento interessante può essere, per esempio, il comando trova Supponiamo che io debba cercare un cliente che non riesco a trovare Allora, a questo punto, per esempio, voglio trovare il cliente QOMO che non riesco a trovare Allora, nella scheda Home, uno degli ultimi comandi, il comando trova Nella finestra di dialogo che compare, scrivo il nome della persona da cercare A questo punto, se clicco su Trova tutti, Excel mi elencherà tutte le celle che contengono questo nome Se clicco invece su Trova successivo, Excel si porta ogni volta sulla successiva cella in cui trova questo nome Un'altra funzione molto utile è la funzione Sostituisci Supponiamo che ci sono questi cognomi buonocore E in tutti questi cognomi io li voglia modificare in buonocore Allora, a questo punto, devo usare il comando Sostituisci Devo indicare la parola da cercare E la parola con cui sostituirla Ora, ho il comando Trova tutti per evidenziare, per mostrare tutte le celle che contengono la parola da cercare Ho il pulsante Sostituisci che mi effettua una sostituzione alla volta Oppure il pulsante Sostituisci tutto, per sostituire in tutte le celle Infine, un'altra funzione molto utile è quella del filtro Il filtro mi consente di visualizzare, di chiedere al computer Di visualizzarmi soltanto i dati che mi interessano Cioè i dati che corrispondono a un certo criterio Allora, per esempio Voglio vedere soltanto i clienti che si chiamano Apicella Vado su Cognome Vedete che l'applicazione Filtro ha fatto apparire questi pulsantini In corrispondenza della riga di intestazione Per esempio, faccio Filtro per testo Uguale a Apicella E adesso vedo soltanto I dati corrispondenti a questi clienti Per eliminare questo filtraggio Torno su questo pulsante E faccio Seleziona tutto Naturalmente posso complicare le cose Per esempio Uguale a Apicella E Uguale a Bove Scusate Scusate Uguale a Apicella O Uguale a Bove E Naturalmente posso pensare A tanti criteri diversi Per esempio Non voglio vedere Quelli di Roma Allora Per esempio Filtro per testo Su Sulla città Per esempio Non voglio vedere Quelli che sono nati a Roma Allora Luogo di nascita Filtro per testo Diverso da Roma Voglio vedere Tutti i clienti nati Prima del 1970 Allora Data di nascita Filtro per date Prima Di 01 01 1970 E così via Passiamo adesso A foglie Esercitazione Allora Abbiamo questo esempio Un foglio automatico Per uno scrutinio Prima operazione da fare Dobbiamo fare la media Fra sfitti orale In modo da avere Il voto unico Per materia Questo è molto semplice L'abbiamo già fatto Uguale media C4D4 Poi usiamo il riempimento automatico Ok Naturalmente sappiamo che il voto Deve essere un intero Quindi la media La dobbiamo arrotondare Approfittiamone per vedere Un nuovo modo Per inserire una funzione Allora Io devo fare un arrotondamento Non sono sicuro Che esista questa funzione In Excel Vado a formule E vedo che ci sono Tutte le funzioni Di Excel Raggruppate Per tipo Intuisco che Una funzione Arrotondamento Debbe avere a che fare Con le funzioni Matematiche E dall'elenco Vedo che effettivamente Esiste una funzione Arrotonda Vedete Poi Indugiando con il mouse Su questa funzione Posso leggere Di che cosa Che cosa fa questa funzione E decidere Se è la funzione Che mi serve Se ho bisogno Di ulteriori chiarimenti Posso cliccare Su questo link E si apre La guida Di Excel Che mi dà Ulteriori dettagli Su questa funzione In sostanza Alla fine capisco Che devo indicare Il numero Oppure la cella Che contiene Il numero Da arrotondare Allora Quindi clicco All'interno di Num E poi seleziono La cella E poi Devo indicare Quante cifre Dopo la virgola Voglio ottenere Di arrotondamento Se per esempio Metto 2 Avrò un numero Arrotondato A 2 cifre Dopo la virgola Se metto 0 Avrò un numero Arrotondato A 0 cifre Dopo la virgola Avrò un numero Intero Quindi per arrotondare Un intero Devo indicare Numero di cifre 0 Supponiamo ancora Di voler Contare Adesso Adesso Le materie In cui Questo allievo È insufficiente Quindi adesso Devo contare Questi numeri Questi voti Però A differenza Di quando ho fatto Con le funzioni Di conteggio Nelle lezioni Precedenti È una funzione Di conteggio Particolare Perché è condizionata Io queste celle Non le devo Contare tutte Le devo contare Solo se Contengono Un numero Inferiore a 6 Quindi Ripetendo il concetto Devo contare Le celle Di questo intervallo Se Contengono Un numero Inferiore a 6 Ora Ci mettiamo In questa cella Io Non so Se esiste Questa Funzione E supponiamo Che non so Neanche In quale gruppo Trovarla Non mi resta Che cliccare Su pulsante Inserisci Funzione Questo pulsante Fa apparire Una finestra Di dialogo In questa Finestra Di dialogo Comunque Le varie Funzioni Sono raggruppate Per tipo Ma se Ho il dubbio Su quale tipo Di funzione Sia Clicco Sulla voce Tutte In modo Da farle Apparire Tutte Suppongo Che la mia Funzione Se esiste Deve chiamarsi Conta Qualche cosa Quindi Scorro L'intervallo Finché Riesco A trovare Delle funzioni Di tipo Conta E vedo Che c'è Una funzione Che si chiama Proprio Conta Se Ne vado A leggere La descrizione Conta Il numero Di celli In intervallo Che corrispondono A un certo Criterio Mi sembra La funzione Di cui ho Bisogno Clicco Su ok La prima Cosa Che gli Debo Dire E' L'intervallo La seconda Cosa Che gli Debo Dire Il criterio Devo Considerare Tutti i voti Minore Di 6 Quindi Devo Scrivere Minore 6 Ok Notate Come Questo sistema Mi consente Anche Di scrivere In maniera Più agevole La funzione Guardate Come avrei Dovuto Scrivere Il criterio A mano Uguale In nome Della funzione Conta Punto Se L'intervallo Separato Dal criterio Da un punto In virgola Notate Come Il criterio L'avrei Dovuto Racchiudere Fra Virgolette Mi Si Si La G Grazie a tutti.